Allora, ciao Gio. Ciao caro, ciao Matteo, ben trovato. Benvenuto, anzi è un piacere intanto conoscerti anche se virtualmente. Grazie, altrettanto. Benvenuto a Raccontami da casa. Tra l'altro, tu sai che dovevi venire qui forse? In questo periodo? No, prima. Vabbè sì, nel momento in cui stava uscendo il disco. Esatto, perché io ho sentito Gigi e mi dice quando eri in promozione, ma sei salito alla fine o neanche? Guarda no, dovevamo fare la presentazione il 26 di febbraio, nel capsule hotel, solo che non ci siamo riusciti in tempo. Quindi abbiamo rimandato tutto a dopo, sostanzialmente, oppure comunque a tutte cose abbastanza virtuali, ecco, tipo questo incontro, anche perché diversamente non possiamo fare. Direi proprio di no. Anche perché siamo leggermente lontani, credo. Bene, allora, se sei pronto partiamo. Sì. Allora, noi di solito non facciamo questa specie di gioco, chiamiamolo gioco. Io ti dico una parola. Sì. Tu mi dici quello che ti viene in mente da quella parola, qualsiasi cosa vuoi con quella parola. Va bene? Va bene. E le parole ce le hanno consigliate, ce le hanno suggerite i tuoi fan e gli utenti sui social, quindi vediamo un po' dove siamo andati a… Va bene. Poi facciano quelle un po' fresche, un po'. Allora, la prima è Gulliver. Allora, Gulliver, su questa parola dovrei fare una preview, nel senso che io credo che la nascita di un nuovo progetto, cioè quello che ho fatto io, sia solamente per come la vivo io, la creatività, la conseguenza di un periodo o di anni o di quello che ti succede. Quindi, sostanzialmente, essendo io molto staccato dall'idea di me stesso, nel senso che non ho una gran voglia di esaltare me, ma ho una gran voglia di dare spazio alle cose che in un modo o nell'altro mi colpiscono. Io non ho, diciamo, non ho controllo su quello che io desidero fare, capito? A una certa mi pervadono determinate cose, determinati pensieri che gestisco, sì, però poi le azioni che ne seguono sono ingestibili da me. Quindi la nascita di questo progetto è stata veramente una cosa che ho dovuto fare, perché avevo delle cose da dire, sostanzialmente. E non ho trovato di certo il modo più furbo per dirle, sostanzialmente, anche perché non amo le furbate. Quello che, insomma, è successo con Gulliver è stato che, dopo il mio primo percorso che è legato al mondo del punk, dell'artcore, quindi di tutto il mondo do it yourself, sono entrato in un altro mondo che è legato sostanzialmente al completo opposto, quello dopo X-Factor, quindi quello del mainstream, quello di, insomma, l'antitesi. Ed è come, nella mia testa, è stato come aver attraversato dei mondi sostanzialmente molto diversi tra di loro, fatti sempre di esseri umani, certo, però con uno spirito completamente opposto. E questa cosa, avendo mantenuto io le mie, cioè, quello che sono sostanzialmente, non avendo mai cambiato la mia prospettiva sulla realtà, allora mi sono trovato come in una specie di viaggio, quindi dentro di me sapevo che non avevo raggiunto il massimo della mia espressione, ok, della mia creatività, o comunque non stavo andando in quella direzione, però sapevo al tempo stesso che avevo bisogno di un grande sconvolgimento della mia vita per poter raggiungere determinate stanze dentro di me che altrimenti non avrei mai potuto aprire. Quindi se non avessi avuto l'esperienza di tutti gli anni nel punk hardcore che mi hanno veramente aperto la mente, se non avessi avuto al tempo stesso l'esperienza nel mainstream che mi ha un po' anche schiacciato, perché andava nella maggior parte anche contro a tanti miei principi, che però ho dovuto affrontare, perché li volevo mettere alla prova, volevo vedere quanto era vera la mia sensazione di non essere d'accordo a certe cose, e quanto potesse essere corrotta invece. Effettivamente sono degli esperimenti che ho fatto su di me, perché non ho mai fatto una cosa completamente istintivamente, ma l'ho sempre fatta pensando a tutti i risvolti che poteva avere. Poi ovviamente il risvolto che hanno avuto era sempre diverso da quelli che avevo previsto, però insomma hanno aiutato a spingermi creativamente ancora più avanti, e quindi andare a trovare delle espressività dentro di me più profonde, che non avevo raggiunto perché non avevo, insomma, non mi ero fatto le domande giuste, oppure non avevo avuto le esperienze necessarie per raggiungerle, ecco. E con Gulliver ho voluto fare questo, e quindi trovare qualsiasi modo nella realtà che sia accettato o non accettato per far capitare qualcosa dentro di te, per poterne poi parlare, o per poterlo rendere musica, o per poterlo rendere una canzone. Quindi il mio percorso creativo si sviluppa in questa maniera qui, e questo è Gulliver come concetto. E pensi di fermarti, cioè, pensi di essere arrivato alla cosa che vuoi? No, non credo, cioè nel senso che questo è il primo passo, è il primo mio veramente passo dentro un mondo più profondo, che in un certo senso era quello nel quale io sono stato cresciuto, perché poi nella mia famiglia la musica è sempre stata fatta così. O era lo specchio di una profondità, o era lo specchio di una grande sensibilità emotiva, oppure non valeva la pena farlo, sostanzialmente. Quindi mi sono scontrato con questa cosa qui, per esempio negli ultimi, nei primi due anni dopo il talent, mi sono scontrato con questa cosa qui, perché per me se qualcosa non è profondamente sensato, profondamente sensibilmente, emotivamente vero, non ha senso di farlo uscire. Ecco, molti non la pensano come me, ed è legittimo, ok? Però io ho difficoltà quando percepisco che una cosa che ho fatto non rispecchia veramente quello, insomma, un percorso emotivo, o qualcosa di veramente presente. E quindi quello è stato un po' lo scontro che ho avuto con quel tipo di mondo, che invece è tutt'altro, è tutto sulla velocità, quindi sul catch, sul prendere l'attenzione, in qualche modo, che sia con la forza economica, o che sia con i ritornelli, i tormentoni, eccetera. Cose che esistono e contro le quali non ho nulla, ma personalmente mi trovo in difficoltà quando devo essere io. È bella questa cosa, secondo me. non ti, cioè, bello, detta in breve, cioè tu non, se una cosa non te la senti, non ti va di farla, non la fai, secondo me è molto pura questa cosa qui. E ma guarda, è una questione, neanche che non è neanche più una questione di testa, cioè non è neanche una scelta. Mi sono reso conto di questo, perché io pensavo, sai, no, quello ha scelto di fare così, magari perché gli conveniva, eccetera. Ma non, non, è il mio, è il mio, evidentemente, ero stato, sono stato così, non so, tipo Obelix, quando cade nel calderone, no, nella posizione, non, 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 non lo posso fare, cioè, non, non lo posso accettare, cioè ci sono cose che non posso accettare. Quando vedo che dietro delle cose c'è della, c'è della furbizia o c'è qualcosa per andare a cogliere qualcos'altro, c'è troppa politica, mi comincio a stare male proprio, lo stomaco proprio, mi incomincio, infatti, ho avuto dei problemini allo stomaco per questo motivo, e quindi ho imparato qualcosa di me, e quindi so cosa posso fare, so cosa non posso, e di conseguenza, per esempio, è nato Gulliver. Mi piace. No, nel senso, ti, cerco di immedesimarmi e credo, cioè, non lo so se io riuscirei a fare quello che hai fatto, capito? Io non sono mai arrivato lì, però apprezzo il tuo pensiero, perché è un po' quello che ho io oggi, pur non essendo mai, però ho passato di lì, quindi mi piace. Cambio mood completamente subito. Colazione. Colazione? Ok. È cosa che non faccio mai. È vero? Mai, mai. E da quando ho otto anni, che probabilmente... Guarda, ho avuto un periodo tra i dieci e gli undici anni, che sono ingrassato molto, perché la mattina mi avevo due focaccine, mi mangiavo due focaccine prima di entrare a scuola, perché era tanta la voglia di mangiarle, che... Però colazione, ti garantisco che è proprio una cosa che è molto lontana da me. Il caffè, il caffè sì, il caffè sì. Poi certe mattine, ovviamente, scatta pure roba, che c'è, si è avanzata una cheesecake al giorno prima, me la mangio. Ma è più una questione di golosità, guarda. Non sei uno da colazione, quindi? No, sono più uno da pranzo e cena, guarda. Allora cambio subito. Voce. Ok. Questo è un argomento abbastanza importante per me, nel senso che io non ho mai chiesto, né voluto, né cercato la mia voce. Nel senso che mi è capitato di scoprirlo per caffo, ma in secondo elementare, perché la mia ma... Nonostante io sapessi che mio padre cantava, mio padre cantava, mia madre canta, mio padre ha anche, insomma, ha una grande voce, e, insomma, quando lo sentivo quasi era... Cioè, dentro di me dicevo, ok, lo fa lui, perché dovrei farlo io. Sostanzialmente la mia idea da bambino era quello, non fare quello che i miei genitori facevano, ma non perché era una naturale, credo che fosse una naturale propensione a non ripetere quello che facevano i genitori. Cosa che poi nel tempo è cambiata, perché, per esempio, io ho cominciato a suonare la chitarra a ventun'anni, vent'anni, ventuno. Quindi, abbastanza tardi, perché prima proprio non mi interessava, cioè, non me ne fregava niente, sostanzialmente. Facevo skate, breakdance, eccetera, eccetera. Poi ho cominciato a cantare con un gruppo in Oblame, a 16 anni, 17 anni. Ma per caso, perché la ragazza che mi piaceva, sostanzialmente usciva con questi due ragazzi, Simone e Antonello, che suonavano in questa band, no? Allora, io, siccome mi piaceva la tipa, ho detto, vabbè, posso venire a provare a cantare. E lui, in realtà, canti? Ho detto, sì, sì, canto. Cioè, cantavo così, amatorialmente. Sapevo che ero intonato, ma non è che avevo detto, oh, che grande voce che ho. Non me ne accorgevo. Nemmeno ne sono mai accorto, probabilmente. Però è nata così, quindi è nata così e ho cominciato a cantare a 16 anni. Dopo aver cantato l'elementare alle recite, sì, ma non avevo mai approfondito questa cosa della voce. Magari gli strumenti, pianoforte. Però la musica era una cosa che mi ha colpito dai 16 anni in poi. Poi la musica, il punk, perché mi piaceva quell'atmosfera là, mi piaceva quel mondo là. e mi piace tuttora. Cioè, mi piace ancora e mi piace andare ai concerti e cercare di stare, di esserci. Quindi, sostanzialmente, il fatto che poi proprio la mia voce mi abbia portato a costruire gli ultimi 5 anni della mia vita è proprio stato il motivo principale, probabilmente, per cui tutto è successo. Allora ho incominciato a a vederla in un'altra maniera, quindi a curarla in un'altra maniera, ma proprio ad averci un rapporto diverso. È strano, io pure ho una chitarra, l'ho pagata un sacco di so, perché ho detto voglio comprarmi una cosa e non ho mai comprato una macchina, ho un mezzo, sì, ma è un mezzo A, sì, perché mi piacciono le macchine d'epoca. Allora, però per la chitarra, sì. E poi ho paragonato le due cose ed è inestimato. Cioè, adesso, quello che provo per la mia voce, che è quasi un'entità a parte, cioè nel senso che lei è una cosa, io sono un'altra, nel senso che poi, anche quando sono sul palco, sostanzialmente, divento un'altra persona, cioè sono un'altra forza, perché poi fuori dal palco ho tutti i miei limiti, anche comunicativi, nel senso che, sai, mi trovo anche in imbarazzo a volte, perché, insomma, certe cose non ce le ho detto. Però, sul palco avviene qualcosa di diverso, che prima collegavo, magari, all'atmosfera della band, eccetera, poi ho cominciato a capire che è proprio l'utilizzo della voce, quindi la vibrazione che produce nel corpo il canto, mi trasforma, sostanzialmente, ed è lei la causa principale di questa trasformazione, e quindi di questa energia che entra dentro di me e che poi riesco a dare agli altri. Ed è la cosa più entusiasmante proprio della musica, vedere questa reazione, vedere la reazione tua e di chi hai di fronte quando canti qualcosa, quando gridi qualcosa. Film? Guarda, allora, con i film ho un bellissimo rapporto, perché mi piacciono molto, e ho avuto la fortuna l'anno scorso perché diciamo che intorno ai vent'anni ho cominciato anche un percorso in teatro insieme a un regista di Bari, teatrale e attore, e assieme a lui ho scoperto questo mondo, e anche attraverso quel mondo che ho capito certe cose come andarle a prendere a livello di ispirazione, perché sul teatro si lavora con questo dono emotivo, quindi andare a riaprire una porta che tu avevi chiuso emotivamente parlando, per andare, per diventare verità sul palcoscenico, e quel lavoro là di aprire e chiudere, aprire e chiudere, che molto spesso ti tende anche a squilibrarti emotivamente, quindi a portati, quando lo fai, questo lavoro qui, e quindi capisci come aprire, come chiudere, eccetera, poi ti trovi bene anche con la musica, per esempio, o con il cantautorato, ecco, mentre con il film ho avuto la possibilità quest'anno, cioè l'anno scorso, quest'estate, di fare il primo film nel quale ho recitato pure, nel senso, quindi sono stato molto contento di questo, con, chissà quando uscirà, perché sarebbe dovuto comunque essere pronto a breve, quindi, però, con questo casino dei cinema vedremo anche quando uscirà, e ho fatto un paio di canzoni anche per la colonna sonora, e la cosa divertente era che erano due canzoni in cui il mio personaggio era, diciamo, era tutto l'opposto di quello che ti ho detto adesso, tutto quello che ti ho detto riguardo alla creatività, l'opposto, e io dovevo fare quel personaggio là, e ho dovuto fare le due canzoni che lui pensa nel film, che sono un reggaeton, sostanzialmente, in napoletano, quindi proprio, che però è uscito bene, infatti, se lo sentirai un giorno mi dirai, è un pezzo trap, quindi, quando, vedi, quando poi c'è l'occasione per poter essere tutto l'opposto di quello che sei, naturalmente, in una finzione, in un'equitetica finzione, escono delle cose che poi dici, ma dove cazzo è uscita sta roba, ed è uscita molto bene, quindi con i film c'ho un ottimo rapporto, e credo di avere un film per ogni, insomma, periodo della mia vita, cioè, ogni periodo della mia vita che mi ricordo, sai, il periodo delle medie, il periodo delle elementari, eh, o dei film riferimento, e poi nei film c'è tanta verità sostanzialmente, nascosta, o comunque celata, perché poi i registi sono comunque altri esseri sensibili, e quindi all'interno di quello che fanno mettono sempre delle cose che, molto umanistiche, molto umane, e molto sociali, quindi, perché poi, credo che comunque il cruccio di molti artisti sia proprio vedere l'irrazionalità e l'illogicità di tutto quello che è il nostro sistema attuale, contemporaneo, che fa acqua da tutte le parti, a livello di logica, a livello di empatia, a livello di, proprio di soluzioni, non sono soluzioni umane, molto spesso sono soluzioni furbe, di cui parlavamo prima, riguardo a un, non dico a un proprio tornaconto, ma a un tornaconto della propria parte, mentre è ovvio che gli artisti o comunque chi si interroga costantemente, perché poi è quella la cosa, dentro di sé che ha superato tanti ostacoli, quindi tanti limiti, in un modo o nell'altro, è ovviamente chi ha avuto la fortuna di potersi fare queste domande, perché poi spesso invece ci dimentichiamo che tanta gente non ha neanche la fortuna e il tempo per potersi chiedere delle cose, magari ha solo il tempo per andare a lavorare, e poi uscire dal lavoro ed essere incazzato nero, quindi è quello che dobbiamo curare, questa cosa che dobbiamo curare, principalmente, insomma, eravamo partiti e poi ho subito deviato, ma è bello per quello, è giusto comunque, siamo partiti da film, ma siamo in un grande film, poi qualcuno, di sicuro qualcuno farà dei film anche sulla nostra generazione, sul nostro periodo storico, tra cento anni, ci guarderanno, mamma mia, pensa a questi come stavano, inguagliati proprio, però abbiamo tutte le possibilità per migliorarci, e quella è la cosa bella, c'è sempre la possibilità, quindi poi quando vedo troppe lamentele, troppe cose, il mondo, dobbiamo estinguerci, hai rotto pure le palle, io non mi voglio estinguere, io voglio trovare un modo per svilupparmi ancora di più, e quella è la curiosità anche, e devo dire grazie anche ai miei gatti che mi infondono curiosità in continuazione. Quanti? Due, due, padre e figlio, voglio i nomi, Adam e Gulliver, di solito arriva, in realtà è qui, non l'hai notato, però è qua. Ah, sai che non, no, sembrava, non so, un murano, il muro. Vedi, eccolo qua, lui c'è sempre, ogni diretta che ho fatto, arriva, oppure sta dietro, non me ne accorgo, e l'altro è qui, lo faccio vedere anche lui, eccolo qua, questo è un pioniero. Ah, ok, sì, ottimo, grazie anche a voi per essere qui e per la vostra disponibilità. Ringraziano. Ultima parola, che è quella con cui chiudiamo sempre tutte le nostre chiacchierate, è desiderio. Ok, desiderio. Il mio desiderio è liberarmi anche ancora di più da tante, da tante cose che io ritengo, di cui io ritengo sia ancora vittima, perché spesso, no, tendo anch'io a credere di saperla lunga, o comunque tendo a darmi ragione, no, quando in realtà l'esercizio che mi spingo a fare è proprio sbugiardarmi, sostanzialmente, per permettermi di accorgermi di tanti limiti che ho e che ho ancora e che mi voglio togliere davanti. Quindi, quello è il mio desiderio, continuare questo percorso, ovviamente, sperare il prima possibile di riprendere l'attività dei live, perché è il mio ossigeno e anche quello, spero di farlo il prima possibile e anche perché l'unico posto dove riesco a fare l'attività fisica è il palco. Quindi, quando facevo tanti live stavo anche bene fisicamente, perché perdevo peso, sudavo, invece, da quando sto fermo, l'anno scorso per fare il disco, quest'anno con sta roba è minchia, devo darmi una rigittata, come diciamo qui. Questi sono i miei desideri più vicini al presente, poi quelli troppo lontani non lo so, poi vediamo. Mi sentiamo, poi mi dirai. Sì. Gio, grazie mille. Grazie a te, grazie a te, è stato un piacere. È stato un piacere mio ascoltarti e sentire i tuoi punti di vista anche sulla colazione che non era scontata. Dai, è vero, è uscito un bel discorso sulla colazione. C'è un gioco delle parole molto interessante. Grazie a tutte le persone che hanno commentato e spero che si riparta al prima possibile, così ti aspettiamo sul nostro divano perché io sono in studio e lì dietro di te. Ok. Devo scappartelo vedere. No, non si vede niente, si vede solo il divano perché non sono capace, però sì. Dai, dai, volentieri, sembra anche comodo. Quindi, sì, siamo vicini, ci metti un attimo i scindici con la mascherina subito. Subito. Grazie mille. Grazie a te, grazie a te, è stato un piacere. Auguri per tutto e... Grazie a te, grazie a voi. Ciao. Ciao, ciao caro.